Abbiamo sforato ampiamente, recupereremo nel prossimo panel. Grazie ancora a tutti. Continuiamo a parlare di una cosa di cui abbiamo cominciato a parlare poco fa, e cioè del rapporto della European Environment Agency con Ioannis Bakas, che è collegato in remoto, che è expert Circular Economy Monitoring e coautore del rapporto medesimo. Benvenuto, welcome. Can you hear me? Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, il rapporto sulle materie prime e seconde. Quali sono i punti salienti di questo rapporto? Mi sente, sì? Bene, io vorrei condividere la mia presentazione, se è possibile. Ecco, da un punto di vista tecnico vorrei poterlo condividere. Bene, innanzitutto grazie, grazie mille per l'invito che mi avete rivolto. È un grande piacere prendere appunto parte a questa conferenza nazionale dell'industria del riciclo. Vorrei parlare un pochettino di questo rapporto che è stato pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e si tratta del mercato delle materie prime e seconde in Europa. Dopodiché interro un pochino più nel merito e vedremo quali sono i contenuti nello specifico di questo rapporto. Ecco, innanzitutto vorrei mostrare sulla prossima slide un pochettino qualcosa sull'Agenzia per la quale lavoro, l'Agenzia Europea dell'Ambiente EEA o AEA in italiano. Dunque, si tratta di un'agenzia a livello dell'Unione Europea che opera all'interfaccia tra la scienza e la politica. L'Agenzia Europea dell'Ambiente fornisce delle informazioni tempestive, affidabili, mirate e pertinenti a sostegno dello sviluppo sostenibile. Particolarmente importante in questo contesto è la rete Eionet che comprende 1800 esperti provenienti da oltre 400 istituzioni nazionali in 39 paesi. Abbiamo un network, quindi una rete molto capillare, molto presente, che comprende sia dei paesi membri sia dei paesi cosiddetti cooperanti. Qui a destra vedete una cartina che esemplifica un pochettino il tutto. Abbiamo quindi anche ovviamente l'Italia che fa parte di questi paesi. Ora, per quanto concerne i contenuti vorrei passare alla prossima slide e vorrei mettere in luce quella che è l'importanza del piano d'azione sull'economia circolare che risale al 2020. Dunque, qual è lo scopo? Lo scopo è creare un mercato dell'Unione Europea ben funzionante per le materie prime e seconde. Cito direttamente dal rapporto. Si tratta di un piano d'azione che è stato messo in piedi nel 2020. Quando parliamo di ben funzionante, che cosa intendiamo? Intendiamo che c'è uno scambio di informazioni, intendiamo che la situazione sui mercati si basa su uno scambio di esperienze, di buone prassi, per esempio. E qua trovate quindi alcuni degli sforzi che vengono profusi e che rientrano anche nel Green Deal europeo. Prossima slide, per favore. Innanzitutto, dobbiamo definire che cosa intendiamo per mercati delle materie prime e seconde. Si tratta di uno spazio economico e logistico che collega le operazioni di gestione dei rifiuti e il sistema delle materie prime industriali. E' un meccanismo vero e proprio europeo che passa per una serie di questioni, tra cui appunto il riciclaggio, la valorizzazione dei rifiuti, lo smaltimento e via dicendo. Oltre a questa definizione, passiamo alla prossima slide. Vorrei entrare un pochettino nel merito di quelle che sono le caratteristiche dei mercati, dei materiali tradizionali versus i materiali secondari o le materie seconde. Allora, quando dobbiamo distinguere e operare una distinzione tra questi due tipi di mercato, dobbiamo prendere in considerazione una serie di variabili. Un primo aspetto riguarda la dipendenza dai mercati delle materie prime. E questa è una delle caratteristiche importanti, ovvero i materiali sono caratterizzati da certi fattori, hanno dei prezzi che possono essere potenzialmente negativi. A volte le informazioni sono inadeguate agli attori o comunque ai player e ai vari portatori di interessi. Quindi abbiamo un problema di informazioni, per esempio, che non sempre vengono messe a disposizione in maniera tempestiva. Poi abbiamo anche una disponibilità limitata a livello dei marketplace, quindi dei mercati. Molto spesso i materiali non sono omogenei. Abbiamo poi una serie di esternalità, di fattori esterni. E ultimo, ma non ultimo, abbiamo anche un problema a livello di spinta politica. Quindi, in linea generale, se pensiamo a dei materiali come la plastica o ai materiali plastici, vediamo che quando parliamo, per esempio, della raccolta di questi materiali e dei rifiuti plastici, questo può porre una serie di problematiche aggiuntive. Oltre a questi fattori esterni, abbiamo poi un fattore, come dicevo, di spinta a livello politico. Quando pensiamo all'esternalità, pensiamo alla democratizzazione, per esempio, nei sistemi di gestione dei rifiuti. E la caratteristica, però, principale, al di là di tutte quelle che sono elencate e che sono altrettanto importanti, è questa spinta politica. Perché molto spesso abbiamo dei target, degli obiettivi che vengono fissati, che sono più o meno raggiungibili a seconda dei Paesi, a seconda del livello di sviluppo delle regolamentazioni, nonostante questo sforzo delle istituzioni europee di andare verso una standardizzazione e un'armonizzazione delle normative. Ecco, quindi, vediamo, prossima slide, come questi fattori siano intrecciati tra loro. Dunque, un aspetto nel quale vorrei addentrarmi riguarda proprio l'assessment, ovvero la valutazione dei mercati secondari, delle materie seconde. Perché questo rapporto ha tra gli obiettivi anche quello di definire un framework, ovvero un sistema, un quadro generale, che analizza vari fattori. Abbiamo parlato in poc'anzi di ben funzionante. Ben funzionante significa che innanzitutto vengono analizzate le dimensioni dei mercati, la crescita dei mercati. Quindi, un primo aspetto da considerare, come si dice nel rapporto, è quello delle quote elevate di domanda e offerta rispetto alla dimensione totale del mercato. Abbiamo una domanda e un'offerta abbastanza stabili o in aumento. Abbiamo bisogno di un commercio internazionale aperto ed elevata commerciabilità e un'elevata capacità industriale basata su input di materiali secondari. Questi sono dei requisiti imprescindibili che devono essere assolutamente rispettati. Prossima slide. Bene, il secondo pilastro di questa valutazione dei mercati delle materie prime e seconde riguarda il ruolo dei fattori trainanti, dei driver o dei motori politici nello sviluppo del mercato, perché è fondamentale assistere anche il mercato. Innanzitutto vediamo che molto spesso la domanda e l'offerta devono non essere guidate dalla politica. Poi abbiamo, questo riguarda la plastica, ma anche tutti gli altri materiali, alluminio, carta, cartone, rifiuti organici, tessili e via dicendo. Poi, incluso nei regimi di conformità, prossima slide, per i rifiuti di imballaggio, nei regimi di responsabilità estesa del produttore e non ci deve essere concorrenza nell'uso dell'energia. Bene, un altro aspetto riguarda i prezzi. I prezzi di riferimento internazionali e nazionali. Un secondo aspetto dei mercati cosiddetti organizzati per la negoziazione. Pensiamo ad esempio ai futures, che sono dei contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in una borsa a valori. E pensiamo anche, ultimo aspetto, ma non per importanza, all'importanza di informazioni, che devono essere sufficientemente messe a disposizione, prossima slide, sia dagli attori della domanda che dell'offerta. Bene, grazie. Dunque, qua abbiamo le specifiche tecniche e le barriere. Le specifiche del prodotto sono e devono essere sempre più standardizzate. Questo è un primo aspetto che ho già citato in apertura, ovvero una standardizzazione, non solo a livello normativo, ma anche a livello di specifiche, e nessuna barriera normativa all'utilizzo di materie prime e seconde come input nella produzione. E questo riguarda delle ripercussioni importanti anche su quello che è non solo l'utilizzo, ma anche lo smaltimento delle materie prime e seconde. Quindi, nella prossima slide, vediamo un pochettino quella che è una domanda di base che dobbiamo porci, ovvero se i mercati delle materie prime e seconde funzionino bene o meno. Abbiamo in linea generale delle considerazioni da fare. Possiamo dire che sulla base della valutazione che è stata condotta si evince che cinque dei mercati oggetto della valutazione non funzionano bene. Alcuni, vedete, ci sono delle parti verdi in questa tabella riepilogativa. Le parti verdi sono i criteri verificati, le parti arancioni sono i criteri parzialmente verificati e le parti rosse sono i criteri non verificati. Quindi, cinque dei mercati oggetti della valutazione non funzionano bene. Quali sono i motivi? I motivi sono le dimensioni ridotte, innanzitutto. Una domanda troppo debole e spesso una mancanza di specifiche tecniche. Quindi, queste sono le problematiche, le criticità. Poi abbiamo invece tre mercati che funzionano bene. L'alluminio, la carta e il vetro, che sono i materiali storicamente riciclati, per tutta una serie di caratteristiche e peculiarità che li contraddistinguono, ovvero aziende che magari sono consolidate da lungo tempo. C'è una maggiore apertura a livello internazionale e si tratta di una quota di mercato significativa nella produzione complessiva. Questo riguarda i paesi europei e in particolar modo anche, per esempio, l'Italia. Quindi, vediamo che in linea generale abbiamo una quota di mercato, in questo caso molto più consolidata e molto più significativa nella produzione complessiva. Ridicevo che sono i tre mercati che funzionano bene, sono alluminio, carta e vetro. Qui c'è ovviamente un lavoro che deve essere fatto e qua nella prossima slide troviamo un pochettino quelle che sono le barriere allo sfruttamento del loro pieno potenziale. Parliamo di un approccio value chain, ovvero catena del valore. Innanzitutto abbiamo una debole spinta normativa e questa è una prima barriera che abbiamo. Quindi è una questione di scelte di materiali, di reciclabilità, quindi design, progettazione e prodotti. Spesso abbiamo, a secondo punto, un'offerta instabile a livello anche di generazione dei rifiuti, a livello di smistamento, di cernita, di smantellamento e via dicendo. Poi abbiamo un problema di costi di raccolta, per esempio, quindi lo smistamento, la cernita on-site e poi abbiamo i problemi dei costi di raccolta perché abbiamo una serie di problematiche legate ai sistemi di raccolta, raccolta differenziate, quindi anche qua dobbiamo lavorare sul design, su una standardizzazione. Poi abbiamo una mancanza di attenzione attribuita alla qualità del riciclaggio, quindi come sviluppare la cernita, lo smistamento, la separazione e la qualità dei feedstock, quindi delle materie prime, per esempio. Poi un altro punto importante è la mancanza di specifiche tecniche o standard nella produzione, per esempio, degli SRM, cioè delle materie prime seconde. E un altro punto è la sfiducia nelle materie prime seconde, perché è anche una questione di sfiducia, quindi l'uso nell'industria manifatturiera, la domanda del mercato e via dicendo. Quindi tutto questo deve essere preso in considerazione nel design e nella progettazione, quindi mancanza di standardizzazione è un grande lavoro da fare a questo livello. E questo significa che dobbiamo fare un lavoro di streamlining, cioè un lavoro di affinamento, che troviamo esposto in questa ultima slide. Ovviamente, come possiamo migliorare i mercati delle materie prime e seconde in Europa? Allora, abbiamo varie possibilità. Innanzitutto abbiamo la questione della produzione, della realizzazione, del design e della progettazione dei prodotti. Alcune di queste proposte riguardano l'espansione degli strumenti politici esistenti, altre l'introduzione di nuovi. Per esempio, l'ultimo gruppo comprende, come si diceva precedentemente, la standardizzazione delle materie prime e seconde, l'imposta sulle materie prime e primarie e la riduzione dell'IVA sulle materie prime e seconde. Qua troviamo, per esempio, il discorso delle commissioni o delle tariffe per la responsabilità estesa del produttore, che devono essere ecomodulate in merito a questa responsabilità estesa del produttore. Poi abbiamo, appunto, la questione della progettazione delle misure ambientali, restrizioni sulle sostanze che inibiscono il riciclaggio, il Green Public Procurement, quindi gli appalti pubblici verdi, poi le questioni della fornitura delle materie prime e seconde, quindi i target e gli obiettivi di riciclaggio, le restrizioni di esportazione a livello dei rifiuti, l'armonizzazione degli collection schemes, quindi dei progetti appunto di raccolta, la promozione del recupero dei materiali oltre il recupero energetico, la standardizzazione della definizione di materie prime e seconde e i criteri di end of waste, quindi di cessazione di qualifica di rifiuto. Ultimo, ma non ultimo, la domanda delle materie prime e seconde, quindi i requisiti di contenuto riciclato, i passaporti di prodotti, gli eco-label, l'eco-etichette, le tasse sui primari materie prime reali. Questo è tutto. Grazie, grazie mille. Resto a disposizione per eventuali domande e vi invito anche a consultare il sito web dove troverete delle informazioni aggiornate e ulteriori rispetto alla mia presentazione. Spero di aver parlato abbastanza lentamente e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a Ioannis Bacchus. Continuiamo allora invece a parlare proprio di mercato di materie prime e seconde. Per farlo io invito sul palco Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Prego, accomodati. Adesso noi incontriamo alcuni dei protagonisti di questo. Sì, diciamo che l'idea, che appunto questa è la conferenza dell'industria del riciclo, abbiamo visto come le materie prime e seconde è il focus di quest'anno perché i mercati devono crescere. Adesso facciamo parlare di quelli che stanno su questo. Esatto. Sarà una maratona, io e te abbiamo una challenge pazzesca come dicono quelli bravi. Io, Edoardo, so che tutti ti chiamano Edo, ma io ti chiamerò Edoardo perché per noi della Fondazione... Io sono Edoardo. Ecco, quindi ti chiamerò da adesso in poi Edoardo e ci siamo sentiti per capire come gestire questa maratona. Forse la cosa fondamentale, se sei d'accordo, è quello di chiedere ai relatori proprio sul focus dei mercati, delle materie prime e seconde e sullo sviluppo quindi del mercato capire se le barriere da superare sono di tipo tecnologico, di tipo normativo e di tipo economico con delle proposte concrete che oggi facciamo qui e che noi come fondazione raccogliamo per portare avanti. Assolutamente, abbiamo per ciascuno di loro un video che presenta, così non devono poi raccontare cosa fanno, che presenta la loro attività e poi abbiamo un timer molto stretto, ognuno di loro ha sette minuti, quindi chiediamo a tutti quanti di essere, di rispettare nei limiti del possibile questo tempo che si vede qui. Allora, partiamo? Comincerei subito con invitare Roberto Sancinelli, presidente della Montello Spa, prego. Montello Spa, 850 addetti, uno dei principali player europei, mondiali dell'industria del riciclo, plastica, comodo, benvenuto, Raimondo, prego. 350.000 tonnellate di rifiuti di plastica che il 75% diventa riciclato, il resto diventa energia, ma vediamo il video. Grazie. 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 Il video appunto racconta quello che fate alla Montello e allora io, la domanda è quella che diceva Raimondo, quali sono gli ostacoli dal suo punto di vista, con la sua lunga esperienza, gli ostacoli che il mercato delle materie prime e seconde devono affrontare e superare? Beh, come ormai si è detto e appurato, l'Italia è sicuramente molto avanti negli indici di riciclo, abbiamo già raggiunto dagli indici che l'Europa si è prefissata negli anni a venire, però oggi anche noi, purché abbiamo avuto questa crescita, oggi siamo fermi, non riusciamo più a crescere. Per andare oltre abbiamo necessità di una normativa che in qualche modo è abbozzata, c'è, però una normativa che deve essere, per esempio, applicata un po' più velocemente. Se prendiamo la plastica, tanto perché è nell'ambito proprio anche degli imballaggi, se prendiamo la plastica, è vero che per il contenitore di liquidi è già in atto l'utilizzo di una percentuale di riciclato, nel 2025 adesso, magari sbaglio, ma il 30%, nel 2026, il 2027, il 50, eccetera. Ma questo è il 20%, grosso modo, degli imballaggi che si raccolgono, in base a che si raccolgono. L'altro 80%, diciamo così, è grande imballaggio poliolefini, o della famiglia delle poliolefini. Lì noi invece siamo naturalmente, ecco, questo è uno slide, che è quello dell'anno scorso, ma l'ho voluto riportare per dire siamo ancora lì, questo era già l'anno scorso, ma non siamo riusciti ad andare oltre. Anzi, probabilmente, c'è stata qualche contrazione addirittura nella plastica, perché negli ultimi mesi qualcosa di meno siamo, purtroppo proprio per questa ragione che sto spiegando. E quindi noi abbiamo necessità, questi indici che hanno detto che nei manufatti il riciclato deve essere del 30% al 2030, ma cosa facciamo da adesso al 2030? Io voglio dire, ma poi è stato già bocciato sbagliato quando hanno stabilito questo. Ma perché il 30% al 2030? A parte che un 30% al 2030 per gli addetti di lavoro sarà un indice che sarà impossibile anche quando scatta da raggiungere, perché è troppo elevato. Ma perché non si è partito col 2024, il 2025, al 2% e poi magari salire ogni anno un 1% in più, in modo che ci si abituava, ma tutto, anche la tecnologia, anche l'utilizzo, anche le industrie si adeguavano, eccetera, eccetera. No, a un certo punto ho detto, no, fino adesso va tutto bene, così il 2030 deve essere il 30%. Questo è sbagliatissimo. Quindi anche l'approccio è stato sbagliato. E noi abbiamo bisogno che questa normativa scatti. E se è possibile, magari, non so, io mi spero che al Parlamento qualcosa, magari nelle prossime discussioni, possano anche rivederla e anticipare. Altrimenti, noi non riusciamo ad andare oltre. Oggi, gli indici che abbiamo nel riciclo, nel riciclato, gli indici che abbiamo raggiunto è stato anche grazie proprio perché all'iniziativa privata. È vero che i consorci sono stati formidabili perché il sistema è quello che ci ha permesso, l'attività del riciclo e proprio grazie al sistema che in Italia c'è, dove non c'è il sistema. Infatti, gli indici di riciclo sono bassissimi o inesistenti. Però poi, l'applicazione del riciclato nei manufatti nell'industria è stata grazie all'iniziativa privata. Per quale ragione? Semplicemente, è nata proprio anche un'industria per dei manufatti poiché la materia prima costava la metà o meno della metà del polimero vergine. Oggi siamo di fronte anche a altre situazioni dove oggi il riciclato invece non è più così perché abbiamo il polimero vergine che proprio per le grandi produzioni che si sono sviluppate in tutto il mondo e soprattutto presso i paesi produttori di petrolio perché oramai pensando che come dico nel 2050 non andremo più a gasolio e a benzina su un'auto dice il petrolio che cosa faccio? Naturalmente il valore aggiunto hanno pensato bene di potenziare anche utilizzare il petrolio per produrre loro il polimero tanto è vero che il petrolchimico europeo è fortemente in crisi perché ormai non è più competitivo con le produzioni che possono venire da paesi che naturalmente arabi dove hanno la materia prima quindi realizzano ai piedi della materia prima la produzione di polimero oppure paesi come Cina eccetera dove lì ci sono altri discorsi di tipo ambientale eccetera energetico ma comunque ormai il petrolchimico in Europa si sta riducendo eccetera potrebbe avere un ruolo proprio perché la normativa obblighi soprattutto negli imballaggi per essere utilizzati a contatto con gli alimenti o per applicazioni dove bisogna avere naturalmente delle ragioni igieniche sanitarie produrre quindi un polimero vergine che contenga che sia già che contenga una percentuale di riciclato noi siamo pronti a questo perché abbiamo visto poi che per arrivare a questo elemento il riciclo meccanico che praticamente è l'appannaggio del privato diciamo così che si è sviluppato del suo però si sono anche resi conto che non sono in antitesi non sono antagonisti anzi secondo secondo noi ormai se vogliono sviluppare il cosiddetto riciclo chimico molecolare hanno necessità di anche a monte di l'esperienza la capacità della preparazione del feedstock per arrivare a questo risultato quindi noi siamo pronti il problema che manca è la normativa è la normativa se questa normativa viene applicata viene anticipata noi sicuramente siamo pronti ad andare oltre lo siamo noi come società addirittura entro la fine dell'anno prossimo massimo il 25 massimo il 25 noi senza nessun accordo con nessun petrochimico siccome io ci credo avremo un impianto industriale di riciclo chimico molecolare poi lo avvierò quando praticamente il chimico verrà a chiedermi che ne ha bisogno perché come sempre l'imprenditore se ci crede in qualcosa deve farlo senza aspettare perché se aspettiamo le normative se aspettiamo tutto quello che può venire dalla politica eccetera addio sviluppo qui è durissimo ad arrivarci e e soprattutto e soprattutto e soprattutto perché noi arriviamo abbiamo un progetto che entro il 2025 non il 20% perché oggi noi entro un milione di tonnellate di rifiuto è il 20 che va recupero energetico ma noi riteniamo che il 2025 discendere al 10% e con un ulteriore progetto che è quello già in atto già in fase di istruttoria dove chiuderemo il vero cerchio dell'economia circolare l'economia circolare noi quando parliamo sempre di riciclo in materia ci fermiamo all'80% poi abbiamo quel 20% che è il recupero energetico e dobbiamo andare a farlo smaltire fuori ma anche questo con la chiusura del cerchio al 100% noi riteniamo che quel milione di tonnellate non andare a oltre il 3% a discarica il 97% tutto valorizzato in materia e anche il recupero energetico perché dove non è possibile fare il recupero in materia voglio dire è stupido che non si fassa il recupero in energia grazie Roberto Sancinelli Raimondo devi registrare io ho già registrato la cosa interessante del rapporto che è rappresentato è appunto anche il gemellaggio fra recupero meccanico e chimico e quindi noi siamo leader in Europa perché abbiamo imprenditori così che si lanciano e lanciano il cuore oltre l'ostacolo quindi mi sembra che stiamo sulla buona strada ma su questo magari dobbiamo fare un convegno apposito ma lo confermo perché voglio dire una settimana sì una settimana no siamo in contatto con i maggiori petrolchimici d'Europa verranno da su anzi lo confermo dovresti mettere il numeretto fuori stiamo sviluppando colore si sta andando in questo indirizzo grazie Roberto Sancinelli e allora adesso invece passiamo al secondo che chiami tu grazie sì lo chiamo io io chiamerei sul palco Mariella Giannattasio di Iterchimica eccola CEO e CFO dell'azienda Iterchimica che conosciamo da anni e che è il settore degli agglomerati stradali non è un caso che nella tua presentazione abbiamo detto con un mercato fermo tra l'innovazione e la stagnazione che sta succedendo e quali sono innanzitutto racconta la tua esatto intanto facciamo andare il video sotto mentre lasciamo parlare Maria Giannattasio prego buongiorno buongiorno a tutti grazie voi di solito conoscete mia sorella Federica noi siamo le due amministratori delegati di Iterchimica e oggi ci sono io perché lei purtroppo non poteva sono molto d'accordo con il signor Sancinelli con quello che ha detto e con quello che è stato detto fondamentalmente da tutti la tecnologia c'è siamo molto orgogliosi il rapporto di Edo Ronchi dice che siamo bravi siamo molto bravi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di questo però ci manca un pezzettino la nostra esperienza è che noi applichiamo le tecnologie del riuso del riciclo alle pavimentazioni stradali noi in azienda facciamo sempre un esempio noi abbiamo un libretto delle nostre tecnologie green stampato nel 2012 e non abbiamo potuto divulgarlo perché il mercato non era pronto questo libretto lo abbiamo rinnovato quest'anno solo nella grafica ma il concetto è quello ok quindi ci sono tanti strumenti che vengono in aiuto delle imprese noi il primo finanziamento il primo progetto con la finanza agevolata per fare un prodotto d'economia circolare è stato nel 1998 il nostro prodotto GPave che è quello che vedete che è da plastiche da recupero con l'utilizzo di grafene è un brevetto dell'anno scorso il limite è la legislazione mi dispiace ripetere però è così quando noi io ho mandato un messaggio al nostro responsabile dello sviluppo Italia e gli ho chiesto prima mi dici le tre problematiche che abbiamo in Italia per lo sviluppo dei prodotti green l'approvazione di CAM dei criteri ambientali minimi e il fatto che i tecnici siano come dire autorizzati all'utilizzo di queste tecnologie perché se i tecnici che magari comprendono la bontà e la fattibilità di una tecnologia una strada un manto stradale con queste tecnologie dura il 70% in più c'è un risparmio spaventoso di CO2 però se il tecnico si deve prendere la responsabilità di scegliere tra una tecnologia innovativa o una tecnologia tradizionale e non ha l'obbligo di utilizzare la tecnologia innovativa che ha questi principi ma chi glielo fa fare? E forse anche non solo se non ha l'obbligo ma se non si sente protetto a monte perché nel dubbio io non rischio se non ho una norma che mi dice che lo posso fare ma non ho neanche una norma che mi dice che non posso farlo ma nel dubbio non lo faccio questo è il tema il tema è esattamente quello quindi se devo fare una sintesi veloce guardando il timer mi spiace no no ma bisogna fare la sintesi perché alla fine bisogna fare la sintesi le tecnologie ci sono possono essere migliorate possono essere inventate di nuovo ma le tecnologie ci sono noi in Italia siamo bravi possiamo essere più bravi assolutamente ma noi in Italia siamo bravi dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo e gli angoli di applicazione ci sono e sono tanti il dottor Sancinelli fa prodotti per tantissime filiere noi siamo una filiera ok e sono gli ambiti di applicazione sono tantissimi dobbiamo poterlo fare perché se no noi non raggiungeremo mai quegli obiettivi di riduzione della CO2 leggevo un report per cui noi dovremmo ridurre 12 miliardi di tonnellate equivalenti all'anno per stare come si dice entro un grado e mezzo entro il 2050 allora se non lo facciamo certo assolutamente infatti questo è un po' il punto ripeto le tecnologie le possiamo migliorare ma ci sono le dobbiamo poter utilizzare dovremmo imparare a dire Edoardo noi siamo bravi su alcune cose ma come sistema io ho lavorato in Francia tanti anni lì e anche in Germania e anche in Olanda partono da un'alleanza iniziale fra il sistema delle imprese governo normativa cioè fanno più squadra da questo punto di vista assolutamente ma come si può risolvere secondo te cioè dobbiamo agire a livello normativo evidentemente con proposte ma forse anche a livello culturale cioè c'è un gap da parte degli amministratori che si può colmare beh sicuramente degli attuali amministratori ma noi non possiamo cambiare no dobbiamo dobbiamo assolutamente cambiarlo prima ha parlato Katia D'Aros di Confindustria e dell'attività di Confindustria io in questo momento sono presidente dei chimici di Confindustria Bergamo facciamo dei premi al merito scolastico sull'economia circolare per i ragazzi delle superiori della quinta superiore i ragazzi sono pronti siamo noi che non siamo pronti e quindi i ragazzi sono pronti a riparare un po' i nostri i nostri errori ma loro la cultura ce l'hanno siamo noi che dobbiamo fare le regole perché questa cultura venga applicata ok io penso che ci siamo Adoardo assolutamente mi viene solo una battuta forse siamo diventati così bravi perché avevamo le normative contro e abbiamo bisogno di combattere adesso forse però possiamo anche ci vorrebbe è vero noi ci inventiamo le strategie per superare le normative contrari non manca tanto manca un pezzetto ci siamo vicini ma quel gap va assolutamente colmato grazie e continuate così bocca al lugo grazie e adesso chiamo invece Antonio Carluccio direttore commerciale di Aiki Cobat che è la nuova denominazione sociale di Cobat e parliamo di pile batterie e un settore che poi consideriamo veramente anche è considerato sempre più strategico perché se ne discute anche a livello geopolitico come si usa dire adesso perché essere noi padroni della situazione ci permette di essere anche liberi dal punto di vista della sicurezza io ho spostato farvi partire il video intanto grazie grazie alla fondazione per me è un battesimo però mi trovo perfettamente a mio agio perché le parole chiave della giornata sono sfida innovazione e superamento di quelle che sono le barriere normative che in qualche modo inibiscono il progredire nella direzione di un cambiamento reale oggi a livello geopolitico come giustamente dicevi te l'energia l'accumulo di energia ha un ruolo fondamentale ce ne siamo accorti tardi abituati a gestire una tecnologia abbastanza primitiva come quella delle batterie al piombo rispetto alla quale abbiamo raggiunto dei target inarrivabili a livello planetario ci siamo messi in discussione e questo concetto di trasferimento di innovazione è proprio nella nuova denominazione che racchiude un universo mondo di soluzioni più vicine alle imprese siamo un SPA benefit che ha a cuore quindi tanti aspetti di questo discorso che oggi abbiamo affrontato ed ha immediatamente poi una percezione diretta dalle imprese con le quali collaboriamo che sono produttori importatori piuttosto che semplicemente detentori o produttori di rifiuto e con tutti loro la sfida quotidiana della mia quotidianità è quella di trovare soluzioni compatibili con le leggi che cambiano abbiamo recentemente recepito un regolamento europeo sulle batterie tra l'altro che è un po' antesignano è precursore di quello che sta avvenendo con gli imballaggi e che ha cambiato il paradigma anche con il quale interpretiamo la gestione delle batterie prima era una direttiva europea piombocentrica adesso è un regolamento europeo litiocentrico è cambiato il mondo in termini di densità di dimensione di rischio associato anche alla tecnologia quindi il mio avviso è che il game changer è prima di tutto culturale e questa cultura non può essere appannaggio solo delle imprese deve essere appannaggio anche delle istituzioni dei decisori a livello europeo bisogna che entrino un pochino più nel meccanismo della practice mi puoi fare un esempio proprio concreto perché è una cosa che interessa veramente tantissimo diciamo che tradizionalmente gli impianti che hanno un consolidato storico importante funzionano sempre allo stesso modo piccole migliorie sono apportate oggi un impianto che gestisce il litio in Italia già ce ne sono per cui a proposito di transizione ecologica questo è possibile se vinciamo lo scetticismo perché altrimenti io l'auto elettrica se non sono convinto ci sono delle cose che non mi sono chiare spesso si dice la batteria poi come viene riciclata è un fattore di consumo importante di risorse di approvvigionamento chiama a sé tanti problemi ma di fatto le soluzioni già esistono esistono ma tardano ad essere implementate non perché non ci sono le tecnologie torniamo al discorso corale quasi con quelli che mi hanno preceduto purtroppo a livello autorizzativo ci sono dei tempi di stagnazione incredibili ci sono degli standard che non sono mai standard perché non superano la provincia o la regione di pertinenza e oggi gli impianti che gestiscono il litio lo fanno a volte in maniera abbastanza artigianale e leggiamo sempre più spesso nelle cronache di incidenti rilevanti in questo senso allora il tema è ci vogliono impianti specialties nuove professionalità nuove quindi c'è anche occupazione di occupazione senz'altro di sociale ci sono tutte queste situazioni che noi come Aikikobat come dimensione ambiente e formazione del gruppo Innovatech quotato in borsa ha messo al centro della sua nuova dimensione aziendale quindi in qualche modo cerchiamo di accompagnare questa transizione sostanziandola con elementi di impianti quindi impiantistici di trasporto di soluzioni applicate alla domanda del mercato Su questo è interessante anche per voi come giornalisti e come media aiutare questo cambiamento di mentalità perché nel mondo dell'automotive poi oggi pomeriggio noi vedremo Stellantis anche che c'è questa rivoluzione per cui l'automobile diventa una batteria con dei pneumatici sostanzialmente non è più quella di prima ma la critica più grande io sentivo un tassista che mi diceva l'altro giorno ma tanto con le autoelettriche noi devasteremo tutta la Liguria per prendere il litio la Liguria sarà devastata cioè ci sono diciamo delle idee diffuse che poi nei social allora il punto è capire il tasso di potenziale riciclo capire che il riciclo può essere fatto in Italia di alcuni componenti capire che l'Italia è leader nel riciclo delle batterie da 30 anni tutto questo andrebbe diffuso anche per aiutare la transizione climatica e l'autolettrica ma tu pensa che la sezione motori del Corriere ha fatto una serie di podcast processo all'autoelettrica con una serie di puntate tra cui la batteria che ha avuto un botto di persone che hanno ascoltato quindi c'è anche un grande interesse perché attenzione il processo idrometallurgico che abbiamo implementato è un brevetto tra le altre cose italiano nostro con il CNR e realizza una raffinazione degli elementi critici contenuti nella batteria compreso il litio in forma di carbonato quindi riutilizzabile per la produzione di nuove batterie che supera il 90% il 95% in purezza della componente quindi per il reimpiego il problema è anche questo il regolamento europeo parla espressamente entro il 2028 di un riutilizzo di queste materie prime e seconde critiche all'interno dei nuovi accumulatori ma anche qui il paese come accompagna quelle gigafactory delle quali si sente parlare perché se non c'è anche uno sbocco a ciò che riusciamo a creare una comunità industriale recettiva di quelle componenti e alla fine il sistema economico difficilmente arriva lontano e anche questo va accompagnato assolutamente con delle iniziative con un movimento che diventa non più ideologico ma diventa fattivo regolatorio rischiamo altrimenti non solo l'impasse denunciata prima che parlassi io più volte ma anche di diventare nella migliore delle ipotesi contotersisti di far east o far west che vuol dire deregulation non non riferimento longitudinale o latitudinale su questo appello che facciamo ancora una volta nostro dobbiamo salutarla grazie grazie a tutti a te lascio chiamare il prossimo ospite chiamerei sul palco Antonio Lazzarinetti presidente di Telium che è uno di quei diciamo leader come azienda da parecchi decenni che è partito dal mondo degli oli lubrificanti ma adesso ha una visione su moltissime filiere dei rifiuti industriali quindi con Antonio magari possiamo vedere se ci sono i 3-4 punti chiave su cui puntare intanto invito sempre il video a partire per le immagini dell'azienda grazie per l'invito grazie a Edo per questa manifestazione effettivamente siamo quest'anno abbiamo festeggiato i nostri 60 anni di attività la fondazione è venuta appunto nel nel 63 l'abbiamo ricordata qui a Milano come dicevi partiamo come rigeneratori di oli di oli lubrificanti usati oggi se prendiamo come riferimento gli ultimi 12 mesi dati sono a ottobre di quest'anno non di due anni fa questo ottobre abbiamo raccolto e gestito circa 1.389.000 tonnellate di rifiuti speciali per la maggior parte questi rifiuti speciali sono pericolosi per cui diciamo circa 1.000.000 di tonnellate di rifiuti pericolosi ovvero una quota non non marginale di quello che si che si produce in Italia il tutto attraverso una rete di 34 unità operative 1.400 dipendenti ora la parola rigenerazione adesso va tanto di moda ma voi la vede no la parola la parola rigenerazione è nel nostro è nel nostro DNA noi continuiamo noi continuiamo ad essere leader italiani ed europei ad esempio nella rigenerazione degli oli degli oli lubrificanti siamo leader europei nella rigenerazione dei solventi solventi che vengono prodotti soprattutto dal mondo del farm che in Italia continua ad esserci anzi è piuttosto presente soprattutto qui in Lombardia l'84% dei rifiuti che vengono da noi raccolti finiscono nel mondo del riciclo inclusa l'acqua abbiamo cinque impianti di trattamento di acque industriali pericolose anche l'acqua è qualcosa che deve essere come dire gestita e deve ritornare ritornare nel suo alveo naturale per cui rigeneratore lo siamo stati nel passato continuiamo ad essere questo è il DNA che ci caratterizza ecco quando tu mi hai detto di parlare dei rifiuti industriali però è un mondo basta che non guardi il timer lo guardi però io so che ci sono due o tre punti a cui tu tieni in particolare ci sono delle riflessioni che mi vengono da fare che se volete sono anche abbastanza banali però a volte nella normalità si trovano molte risposte ad esempio qual è un metodo pratico concreto per gestire i rifiuti speciali è quello di lavorare in filiera credo che non a caso e qui non lo dico perché siamo in questa casa in questa organizzazione non a caso nel 1997 sono stati individuati dei consorzi dei consorzi di filiera perché la filiera è quella che tiene insieme chi produce il prodotto chi consuma il prodotto e genera il rifiuto chi lo rigenera e chi compra i prodotti che vengono venduti non credo io a volte mi spiace che non ci sia Mattia Pellegrini a volte però vedo delle analisi che sono come dire molto generali che cercano di dare delle indicazioni generali per quanto riguarda il mondo della gestione dei rifiuti ma che senso ha paragonare il mercato del gas con il mercato dei cereali io credo che ogni rifiuto abbia una propria componente e la gestione per filiera è una delle caratteristiche fondamentali poi qui vedo che il tempo che il tempo se ne va un altro elemento banale è la gerarchia dei rifiuti la gerarchia dei rifiuti è una bellissima idea però non morde poco io credo che deve deve essere come dire metabolizzata resa resa concreta resa pratica no poi tra le altre varie cose ci sono dei numeri che ne cito solamente due siamo al 72% abbiamo un indice di riciclo in Italia del 72% ma l'indice di utilizzo di riutilizzo delle materie prime e seconde nei materiali è appena del 18,4% in Italia a livello mondo siamo al 7-8% cosa vuol dire che fatto 100 il totale delle materie prime che vengono consumate quelle riciclate sono appena il 7-8% è veramente un numero se ci pensiamo abbastanza basso in Italia ripeto è più alto siamo al 18% comunque siamo stati superati mi pare dalla Francia siamo stati superati però è sempre in ogni caso un numero piuttosto basso forse il focus deve essere portato di più al mondo finale di chi riutilizza i prodotti le materie prime e seconde piuttosto che lasciato sulla raccolta dico un ultimo numero lo dico a noi che abbiamo impianti è un numero che mi ha un po' impressionato il 27% dei rifiuti speciali prodotti vengono prodotti da chi? dagli impianti di trattamento dei rifiuti dagli impianti di trattamento delle acque industriali e dalle bonifiche ecco io credo che noi che come dire facciamo questo mestiere dobbiamo guardarci dentro e del resto ma c'è margine di efficientamento su questo? c'è margine di efficientamento certo ovviamente per fare margine di efficientamento devi investire ovviamente smaltire costa lo sappiamo benissimo costa come costi e come costi energetici che oggi sono molto alti per cui se non ora quando è chiaro che c'è un incentivo naturale però in ogni caso l'investimento iniziale è forte questo presuppone come dire una visione di lungo periodo delle regole normative che sono quelle che ha detto prima Sancinelli insomma sono quelle che sono state ricordate dopodiché sono già sforato grazie allora grazie Antonio Lozzarinetti chiamo invece Enrico Ambrogio presidente di Ecotaier prego e allora qui parliamo passiamo a parlare di degli pneumatici io faccio un appello si può cambiare la lingua italiana è l'unica cosa che non cambia gli pneumatici sono amali ormai mi dica che almeno in azienda ormai li chiamate i pneumatici buongiorno a tutti grazie per l'invito sì li chiamiamo pneumatici come li chiamano tutti esatto e pare che su qualche enciclopedia tipo tre cani sia già tollerata l'accezione ipno anche perché tutti dicono così questo è un settore anche questo è un settore importante che ha le sue specificità è un altro l'appello che faceva prima la Zarinetti cioè riconosce esatto proprio per questo ci terrei a dedicare un minuto abbondante al video che ho preparato perché descrive bene tutta l'attività grazie a tutti grazie a tutti primo consorzio per numero di soci 800 sì primo consorzio per numero di soci anch'io vedo il timer che corre mi concentrerei quindi su una bella notizia che volevo dare molto attinente a questo contesto quindi noi abbiamo una particolarità nel settore degli pneumatici è ricorrente il numero 100 abbiamo un obiettivo di raccogliere il 100% dell'immesso quindi una gomma venduta una gomma raccolta abbiamo il 100% di trattamento di recupero del materiale perché tutti gli pneumatici vengono conferiti agli impianti e poi abbiamo la possibilità di recuperare il materiale degli pneumatici quindi sarà interessante sapere che circa di un pneumatico di una gomma così stiamo in termini più familiari il 60% è nella stombra quindi è gomma per semplificare 30% circa sono nero di carbonio e il 10% circa è acciaio quindi sono tutti materiali facilmente riutilizzabili al 100% in qualche caso prevalente come recupero di materia in qualche caso anche come recupero di energia qual è l'altra caratteristica della gomma e degli pneumatici è che per produrre un oggetto in gomma devi vulcanizzare cioè devi cuocere quel polimero quel elastomero di cui parlavo prima tramite la vulcanizzazione e una volta che è cotto rimane cotto non puoi più produrre un oggetto in gomma con quel materiale quindi sicuramente benvenuta è molto utile una filiera di riutilizzo del granulo di gomma tantissimi utilizzi adesso ho avuto un po' una battuta di arresto sul bando dell'utilizzo come in taso nei pavimentazioni sportive però comunque è una possibilità tra le altre che ci sono dove noi ci siamo concentrati abbiamo messo insieme una filiera di best practice italiana per fortuna e sulla devulcanizzazione cioè su poter riprodurre della gomma da riutilizzare nella filiera della gomma per farci obiettivo massimo un nuovo pneumatico obiettivo secondario qualche altro prodotto in gomma e ci siamo riusciti esistono oggi dei materiali delle aziende che rispondono a questa domanda è nato un prodotto per cittarne uno si chiama devulprene che è una gomma devulcanizzata che si può utilizzare in alternativa a elastomeri da materie fossili quindi vergini con un notevole impatto a livello di RCA quindi di risparmio di CO2 e ovviamente col beneficio di utilizzare quella parte di trattamento come parte iniziale del sourcing della nuova materia prima seconda quindi un doppio vantaggio e quindi da questo punto di vista qual è il suo appello diciamo quali possibili spazi di cogliendo anche qualche intervento prima sicuramente la conoscenza e la consapevolezza è il primo punto io partirei da un altro punto di vista noi abbiamo interesse a far conoscere che ci sono le soluzioni funzionano e per fortuna sono italiane già disponibili partendo da questo approccio diventa forse un po' più facile divulgarle e provare ad incentivarle gli strumenti di incentivi l'incentivo sono i soliti magari l'aliquotiva più bassa l'incentivo all'uso di materiale riciclato o recuperato in proporzione crescente quindi gli strumenti ci sono già tutti forse se noi lo approcciamo dal punto di vista della consapevolezza della conoscenza diamo un contributo decisivo c'è un prodotto da gomma a gomma che lei immagina oltre agli pneumatici e che possa essere ideale nella realizzazione la gomma è una materia prima e con la gomma da sola non produci niente quindi con certi tipi di mescole ottieni un pneumatico con altri tipi sia di gomma che di mescole ottieni altri oggetti tipo le guarnizioni delle auto c'è tutto un altro mondo di gomma diverso dal pneumatico è interessante sapere che in un'automobile ci sono pari chili di gomma tra pneumatico e non pneumatico pensiamo alle guarnizioni delle portiere i vari tappetini guaine che ci sono e quindi come prodotto sarebbe una tecnologia già esistente applicabile e quindi a secondo delle filiere ci sono già dei prodotti che possono contenere della gomma devulcanizzata poi rivulcanizzata perché con la gomma devulcanizzata non fai un oggetto e noi abbiamo già nella nostra flotta dei mezzi che circolano con pneumatici contenenti questi materiali grazie Enrico Ambrogio per questo ulteriore appello credo che adesso tocchi a te Grazie Enrico a chiamare il mondo a chiamare l'ultima ospite siamo all'ultima ospite e proprio per chiudere questa carrellata vediamo che cosa vuol dire avere delle materie prime e seconde certificate per essere più facilmente assorbite dal mercato quindi Simona Faccioli direttrice di Remade benvenuta prego che vuol dire avere delle materie prime e seconde certificate e ci vuole raccontare questo aspetto prima di fare poi il networking lunch e poi nel pomeriggio avremo tutta l'altra esatto grazie innanzitutto per questo invito a questa bellissima occasione so di essere in una posizione un po' scomoda perché c'è appunto questa pausa dopo di me ma il tempo è questo quello che ho ok allora parto subito ancora meno dei sette minuti che mi aspettavo sì perché credo che abbiano riportato a sei perché ormai eravamo andati lunghissimi per tutti non soltanto per lei ok grazie allora io parlerò brevemente dello strumento della certificazione su materiale prima materia prima seconda e prodotti che contengono materia prima seconda che quindi arrivo diciamo proprio alla fine di tutto quello di cui si è parlato prima e allora solo per dare qualche qualche cenno io ovviamente non parlerò di cosa è la certificazione cosa significa ovviamente la certificazione ha questa funzione di misurare e tracciare il contenuto di materiale che deriva da rifiuti e che viene utilizzato per la produzione di nuovi manufatti e nuovi materiali ovviamente salvando materia vergine allora penso che questo strumento possa essere considerato come molto utile per dare chiarezza e garanzia al mercato delle materie prime e seconde perché dico questo innanzitutto proprio per la prima funzione quindi significa che noi quando abbiamo un prodotto materiale certificato abbiamo molte informazioni su questo materiale perché perché il produttore deve mettere in atto un sistema di massima trasparenza su tutto ciò che è appunto i fornitori la materia prima e seconda il processo insomma ovviamente sintetizzo tantissimo poi ci sono ancora due funzioni insomma che sono interessanti di cui vorrei parlare ovviamente molto brevemente in questa sede due cenni di storia questa certificazione è stata promossa da Conai quindi anche come si dice in tempi non sospetti quindi nel 2009 ha come dire ha creato un contesto associativo quindi rappresentativo di tutti gli interessi all'interno del quale è nato poi questo strumento di certificazione come certificazione accreditata nel 2014 esatto nel 2012 è iniziato il processo poi la certificazione è stata la prima in Italia in Europa come certificazione sul contenuto di riciclato ora è interessante poi vabbè ovviamente molte revisioni tecniche per renderla adeguata la normativa è interessante il momento in cui siamo ora perché da certificazione remade in Italy quindi legata al territorio nazionale ed è anche ovvio che insomma fosse legata a quel contesto ora siamo pronti diciamo ad abbattere le barriere quindi a correre in Europa e anche al di fuori dell'Europa a concorrere con le certificazioni che stanno nascendo molto numerose su questo tema perché lo facciamo perché da una parte abbiamo dei numeri molto confortanti soprattutto dell'ultimo triennio e poi perché ce lo chiedono molto le aziende molto le aziende ci chiedono appunto anche di certificare al di fuori dell'Italia la seconda funzione che secondo me è interessante a livello sistemico è il fatto che la certificazione ci dà anche una fotografia di com'è la richiesta del mercato delle materie prime e seconde qui io ho messo alcune torte che sono relative alle nuove richieste di alcuni anni e vi invito a guardare solo quelle più grandi i settori più vivaci sono l'edilizia e gli imballaggi per motivi ovviamente legati alla normativa edilizia strettamente legato al super bonus che comunque tra le cose buone aveva il fatto di richiedere materiali sostenibili gli imballaggi ovviamente per i temi noti di cui crescerà poi questa parte di imballaggi adesso crescerà assolutamente però è interessante perché dal nostro punto di vista le aziende si muovono in anticipo conoscono la normativa e si preparano in anticipo vado avanti c'è una comunicazione degli impatti ambientali molto importanti perché utilizzare materia che deriva da riciclo comporta ovviamente riduzione di CO2 e vabbè insomma solo dei flash secondo me è interessante un aspetto perché quello che noi vediamo è che spesso nella durata della certificazione le aziende migliorano le proprie performance perché la certificazione non è una fotografia ma è un processo di miglioramento quindi magari si approvvigionano di più materiale riciclato aumentano i prodotti e così via vado per chiudere ovviamente i driver c'è l'unico driver che racchiude tutti gli altri è quello della normativa ovviamente qui sono solo alcuni cenni di cui abbiamo parlato normativa che va tutta nella stessa direzione che è appunto quella di chiedere prodotti che hanno sempre più contenuto di riciclato ma che allo stesso tempo poi questo contenuto di riciclato sia comunicato sia manifestato in modo garantito anche vado a chiudere perché una cosa che poi io ho chiamato brand reputation forse un termine così un po' però quello che a me poi piace anche evidenziare è il fatto che è molto cambiata la percezione insomma poi ci sono ovviamente difficoltà le ho ascoltate questa mattina e ogni settore ha le sue difficoltà quello che io so è che 15 anni fa era era molto difficile era quasi controproducente parlare di contenuto di riciclato adesso invece è un aspetto che viene comunicato perché a volte fa vendere di più i prodotti poi ci difende la greenwashing noi siamo molto sensibili su questo argomento come media esatto sta cambiando totalmente stanno cambiando anche le regole perché appunto quello che ha citato siamo in attesa della direttiva anche su green claims per cui ci sarà molta attenzione sulla anche sulla correttezza delle certificazioni ambientali della loro attendibilità però sicuramente questo aspetto è sempre di più gradito dal mercato e dai consumatori dal abbiamo parlato anche sentito parlare anche di di gpp insomma tutto va in questa direzione ma ovviamente servono regole molto concrete e affidabili grazie remade in italy una bellissima desinenza per la mail grazie segona faccioli grazie a tutti voi pausa finale 2 se ricomincia il rapporto completo è su www.riciclonitalia.it la parte cartacea è stata stampata in pochissime copie proprio per motivi ambientali ma il rapporto anche con una grafica devo dire molto bella è disponibile su internet grazie grazie grazie